Una ballerina che ha subito violenze e coercizioni in un nightclub è stata risarcita per danni subiti. La donna, finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni a causa delle botte ricevute dai gestori del locale, ha ottenuto un risarcimento di circa 7.000 euro da parte del Tribunale Civile. Dieci anni fa la ballerina romena si trovava a lavorare in un locale notturno del Terramano, quando a causa delle pressioni e delle minacce dei titolari si è vista costretta a prostituirsi. Da qui un incubo e da qui anche l'inchiesta partita che ha portato alla condanna dei tre gestori del locale per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il processo ha confermato che i tre imputati hanno inflitto lesioni personali alla donna, causandole un trauma cranico e ferite che hanno richiesto un lungo periodo di recupero. Nonostante le difficoltà nel sistema giudiziario, la vittima è riuscita a ottenere giustizia e un risarcimento per i danni subiti. Dalle indagini è emerso che il titolare dell'attività costringeva 15 ragazze di sala e assunte come ballerine a prostituirsi per 50 euro a prestazione. Un caso che evidenzia la necessità di contrastare il fenomeno dello sfruttamento e della violenza sulle lavoratrici del sesso nei locali notturni, garantendo loro protezione e supporto legale per denunciare gli abusi subiti.